C'è il sud che va verso la ripresa, lo dice l'ultimo rapporto Svimez, secondo la quale la Sardegna nel 2017 sale dello 0,6%, ma per il mezzogiorno resta l'allarme povertà. Graziano Pintus. Ripresa che si consolida, le otto regioni del mezzogiorno escono dalla recessione e per il 2016 fanno registrare 101.000 posti di lavoro in più, ma non la Sardegna, che ha perso lo 0,3% di occupati rispetto all'anno precedente, un calo da ricondurre prevalentemente ad edilizia ed agricoltura. Eppure per fine 2017 il rapporto Svimez presentato a Roma prevede per la Sardegna una crescita dello 0,6% del prodotto interno lordo. In proporzione si tratta di meno della metà di quanto cresceranno il meridione ed anche l'Italia, il cui pile è dato in aumento dell'1,5%. Il sud continua a soffrire a causa di squilibri storici, come il tasso di occupazione più basso d'Europa. Un cittadino meridionale su 10 resta in povertà assoluta, oppure rischia di caderci, secondo Svimez. Il reddito medio pro capita di un sardo è appena il 60% di quello di un residente nelle regioni del centro nord. Il sud non è più il serbatoio di nascita del paese e soprattutto dalle regioni del meridione si continua ad emigrare. Dal 2000 ad oggi la Sardegna ha perso oltre l'1% degli abitanti. Malgrado l'arrivo degli immigrati, l'isola fa segnare 5.000 residenti, meno in un solo anno. Una tendenza comune a tutte le regioni del mezzogiorno, da dove nel 2016 complessivamente sono andate via 62.000 persone.